Gli effetti di questi giorni si fanno sentire anche sulle strutture ricettive, in questo caso vi parliamo di agriturismi. Nella nostra regione calo del 60% e prenotazione in ritardo per la Pasqua. Alberto Viazzi. Le belle giornate d'inverno porterebbero turisti in Liguria, ma lo spettro del coronavirus li tiene lontani. L'onda lunga coinvolge anche gli agriturismi, circa 620 in tutta la regione. I gestori sono preoccupati soprattutto per lo stallo nelle prenotazioni primaverili ed estive. La situazione attuale ha visto delle disdette presso le nostre aziende da parte di clienti sia stranieri che italiani. Le previsioni non sono buone in quanto in questo periodo per le feste di Pasqua, del 25 aprile e anche per l'estate solitamente abbiamo già delle prenotazioni che in questo momento non sono arrivate. Nel territorio di Genova e Savona latitano soprattutto gli ospiti del nord Italia. Nel ponente si risente del forte calo dei francesi sia nell'ospitalità che nella ristorazione e nelle vendite. Specialmente le piccole realtà agricole, vivono dei turisti, ovvero sia gli ospiti, i clienti, poi facilmente acquistano anche i prodotti dell'azienda agricola. L'attività agricola però impone di andare avanti anche in questo periodo. L'attività agricola non si ferma mai. In questo periodo c'è il risveglio della natura, quindi gli orti ci chiamano a raccolta. Dobbiamo comunque preparare tutte le semine, dobbiamo preparare tutto quello che poi andrà in produzione con l'estate. Le piante da frutto, le olive in questo momento richiedono la potatura perché poi andranno in produzione con la nuova stagione, con l'estate. Per sostenere gli agriturismi in difficoltà le associazioni di categoria invocano tre tipi di interventi. La riduzione dell'attari da parte dei comuni, l'utilizzo mirato delle risorse provenienti dalla tassa di soggiorno, un piano di comunicazione che mette in evidenza una situazione reale.